E' un impegno di capire i problemi della città, capire i problemi che nascono nella nostra comunità e viverla, viverla e camminare tra le persone che è la cosa più bella e entusiasmata di questa campagna elettorale. E questa camminata quali sono le richieste che le arrivano dai cittadini? I temi della sicurezza, i temi dell'occupazione di qualità, le prospettive per i giovani, quindi questi sono i temi che sentono molto i cittadini. La sicurezza in particolare in queste aree del territorio è la posizione più sentita. E lei che impegni prende? Come abbiamo detto sulla sicurezza c'è un impegno del governo nazionale, un impegno nostro di avere più uomini sul territorio, più sicurezza anche sulle nuove tecnologie, la videosorveglianza che è importantissima. I cittadini siano a sentirsi sicuri e protetti nella loro città.